Come sappiamo in Italia la disoccupazione è parecchio alta per cui immaginiamo un secondo di aver appena terminato gli studi oppure ci siamo appena dimessi o ci hanno licenziato o comunque per qualsiasi ragione non siamo occupati, non abbiamo un lavoro Se stiamo cercando lavoro vediamo in questo video quali sono gli errori da evitare e soprattutto quali sono le best practice per aumentare le probabilità di entrare in azienda ma soprattutto non semplicemente di entrare in un'azienda qualsiasi ma magari in un'azienda che ci piace, di cui condividiamo la missione o semplicemente che tratta bene i propri dipendenti Insomma l'obiettivo non è semplicemente trovare lavoro ma trovare un buon lavoro che ci soddisfi e per questo se da un lato le aziende competono per i dipendenti migliori anche i dipendenti competono per le aziende migliori Chi sono io per parlarvene? Nessuno Ho la mia piccola esperienza di imprenditore che ho coltivato in questi ultimi anni in cui ho letto tanti curriculum che mi sono arrivati ho l'esperienza di tanti imprenditori che ho intervistato in questi ultimi anni e che ho avuto modo di conoscere personalmente e poi ci sono un po' di nozioni comuni che si imparano lavorando e confrontandosi con altri professionisti Ho fatto anche qualche piccola ricerca online per sicurezza Un piccolo spoiler, una cosa molto importante quando si vuole trovare lavoro è poter dimostrare di saper fare le cose e per farlo non c'è cosa migliore che fare un progetto pratico o più progetti pratici che vanno a dimostrare e confermare le nostre competenze Come sapete un partner del mio canale fin dai primi giorni è stato Start to Impact University che si occupa proprio di aiutare gli studenti a trovare lavoro nelle professioni digitali possibilmente in aziende che hanno un impatto positivo sulla vita delle persone e del pianeta Come mai lo dico? Perché un cavallo di battaglia di Start to Impact University sono proprio progetti pratici e in questo video gli ho chiesto aiuto chiedendomi di fargli conoscere qualche loro ragazzo qualche ex studente che ha ormai trovato lavoro per poter chiedere a lui come ha fatto farmi vedere il suo progetto pratico e parlare anche con il suo recruiter quindi in questo video vedrete fisicamente dei recruiter, delle persone che hanno fatto dei progetti che tipo di progetti li potrete vedere con i vostri occhi in questo modo diamo un approccio un po' più pratico a questo video quindi non lamentiamoci che il video è sponsorizzato ma piuttosto devo ringraziare lo sponsor perché mi ha permesso di portare un bel po' di esempi pratici in questo video che hanno sicuramente un gran valore aggiunto ora come abbiamo detto in tantissimi video, specialmente quando si parla di università ogni lavoro è diverso per alcuni lavori di università è fondamentale, per altri lavori si possono fare solo corsi per altri lavori basta poter confermare appunto le proprie competenze con dei progetti è ovvio che se devo fare il medico non c'è un progetto pratico che tenga per cui in questo video ci sono consigli generali che poi voi dovete applicare al vostro caso specifico comunque vi saranno utili e vi dirò anche nel caso facciate qualcosa di molto tradizionale avere un progettino pratico, qualcosa di laterale, qualcosa di creativo vi aiuta sempre per potervi distinguere ora partiamo con un po' di statistica, un po' di ricerche che abbiamo fatto il 78% dei recruiter negli Stati Uniti utilizza sistemi automatici per tracciare il processo di ricerca colloquio e assunzione che significa che è tutto automatico probabilmente in America siamo un po' più manuali ma comunque questo qua è il trend partendo da questa informazione possiamo immaginare che se inviamo i nostri curriculum alle aziende molto grandi e loro li guardano in automatico è importante avere delle parole chiave nella nostra mail e nella nostra presentazione nel curriculum riconducibili alla candidatura di lavoro questo mi sembra ovvio il secondo passaggio che arriva è che verremo controllati sui social prima tra tutti LinkedIn, poi Instagram, poi il resto quindi per cui non dobbiamo mentire nel nostro curriculum perché poi veniamo sgamati sugli altri social e non dobbiamo mentire neanche su LinkedIn altrimenti è un problema importante anche non inviare un solo curriculum a tutti quanti ma personalizzare un pochino quello che inviamo in base al tipo di lavoro dicevamo personalizzarlo un minimo in base al tipo di mansione quindi magari ne abbiamo uno specifico se vogliamo fare il graphic designer uno più specifico se invece vogliamo candidarci come social media manager importante anche attingere al proprio network lo dico sempre il network non è altro che la nostra rete di conscienze va sfruttata quella che già abbiamo e va coltivata quella che non abbiamo questo perché banalmente nell'azienda e specialmente quelle che hanno bisogno di crescere vengono premiati quei dipendenti che portano candidati utili in azienda per cui se abbiamo un amico, un parente, un conoscente anche alla larga che lavora in azienda e ci può fare una referenza lui verrà premiato all'azienda noi verremo assunti win-win per tutti e tre questo sui dati che ho trovato per la mia esperienza personale diciamo un altro paio di obietà ricevo spesso delle mail con cose che sono terribilmente sbagliate quindi vengono scartate a priori per esempio errori di ortografia nell'oggetto della mail o all'interno della mail un oggetto della mail strano, non chiaro frasi sconnesse, cose insomma tutto ciò che denota sciatteria, velocità, fretta mi fa capire che non c'è messo cura chiaramente quindi verrai scartato a prescindere anche se mi accorgo della tua candidatura che è un copy and call che l'hai inviato a mille persone perché io voglio io faccio la scanning specialmente chi si candida per flatmates per esempio un minimo sappia cosa sia flatmates, condivida quello che facciamo sia appassionato, mi segua sul canale insomma serve qualcuno che abbia voglia di farlo veramente non che voglia trovare lavoro e basta chiaramente non bisogna neanche esagerare nel senso opposto quindi quando ricevo dei paperi troppo lunghi non ho tempo di leggerli mail troppo dettagliate con 18 milioni di esperienze diverse a quel punto si crea l'effetto opposto in cui io dico vabbè la mail la leggo dopo e poi non la leggerò mai perché non ho tempo ora io ho sempre detto nelle candidature potete anche non inviarmi il cv perché per me basta sapere cosa fate in realtà il cv è utile l'importante è che sia facile da leggere il problema del cv è che la maggior parte di quelle che ricevo è che sono troppo lunghi, leggibili, pieni di informazioni io ho bisogno in pochi secondi di fare uno scanner con gli occhi e capire più o meno quali sono le cose cruciali che lingue parlate, dove siete più o meno che background avete, che esperienza avete fatto cosa sapete fare questo in base alla candidatura certo io per esempio spesso mi ritrovo a dover cercare videomaker a quel punto non è che ho bisogno di sapere se è la patente B o meno ho bisogno di sapere dove sei, che software sai utilizzare e che progetti hai già fatto quindi che video hai già fatto e per chi hai lavorato al contrario se magari è un assistante personale quello che sto andando a cercare allora ho bisogno di altri dati per esempio a quel punto magari le lingue che stai a parlare potrebbero essere utili perché le mail mi arrivano anche in inglese alcune volte in spagnolo insomma il cv non è altro che un grosso biglietto da visita penso che almeno lo dicono tutti ma bisognerebbe evitare a meno che non specificatamente è richiesto il cv europeo quella roba là è leggibile piuttosto metteteci un po' di cura cercate qualche tutorial su youtube sull'infinity su come impaginare un buon curriculum e vi copiate quello inoltre come abbiamo già detto se ogni volta che ci proponiamo ad un'azienda specialmente una che ci piace ci mettiamo qualcosa di personalizzato in questo curriculum quindi lo andiamo a riedattare in basse alle necessità dell'azienda ci mettiamo quelle esperienze che possiamo pensare essere di valore per il recruiter che in questa cosa sono io dopodiché si passa ai progetti pratici come abbiamo detto il curriculum lo inviano tutti è la base non è che sei meglio degli altri se invii un buon curriculum finora tutto quello che abbiamo detto è il minimo per non essere scartati come ci si fa a distinguere come si fa a dimostrare di essere meglio degli altri con i progetti pratici appunto dando qualcosa in pasto al recruiter che gli faccia dire subito ok questa persona è brava e affidabile la velocità con cui si trova qualcuno è cruciale per cui se tu hai subito qualcosa per mostrare che sei bravo sei affidabile puoi essere assunto senza problemi è chiaro che ti verrà data la precedenza vi faccio un esempio pratico che è irrealizzabile non c'entra niente ma vi ricordate che sono stato a Boston qualche tempo fa ad andare a vedere questa azienda che si occupa di fusione nucleare che ha nel loro reattore a fusione nucleare uno dei boss Brandon Bostrom se non sbaglio lui all'MIT ha costruito il proprio piccolo modello di reattore a fusione nucleare per dimostrare di essere competente nell'ambito ok chiaro che questa è una roba esagerata però allo stesso modo in base a quello che è il vostro ambito il vostro mercato potete creare dei progetti pratici cioè fondamentalmente dei lavori inventati come mai? quante volte ci siamo detti che l'azienda cercano persone con esperienza ma persone che non hanno lavorato ecco fare progetti pratici è un modo per fare esperienza senza però aver mai avuto esperienze lavorative se sono un videomaker si tratta di fare dei video per esempio come sta facendo Roberto Ricotta che adesso è in Australia e fa i video gratis alle persone quelli sono progetti pratici per dimostrare le proprie competenze poi le persone lo pagheranno per farle si spera vi potrei fare altri esempi inventati ma piuttosto andiamo a vedere gli esempi reali che appunto hanno realizzato gli studenti di Start to Impact University sono tutte persone che sono state assunte in aziende diverse adesso ne andiamo a vedere insieme cominciamo con Lillo Geluardi un digital e content marketing specialist che ha trovato il suo posto in Serenis una piattaforma online per il benessere mentale Lillo tra l'altro era un avvocato e ha deciso proprio di cambiare vita io ho fatto il master in digital marketing di Start to Impact ho visto il tuo video a maggio del 2022 se non ricordo male quello in collaborazione con Start to Impact e quindi ho pensato di iniziare questo percorso ci ho messo circa otto mesi nel 2023 il progetto finale del master consisteva nella realizzazione di una strategia digitale completa di digital marketing su un'azienda a mia scelta e ho scelto un'azienda nel settore del benessere mentale durante la creazione del progetto hai affrontato le difficoltà come è stato doverlo fare ti sei interfacciato con un coach il progetto consisteva in due parti essenzialmente la prima parte di Insight in cui ho dovuto analizzare il mercato e questa fase chiaramente è stata un po' complessa perché dovevo analizzare tutto il mercato sulla base delle informazioni che avevo a disposizione e poi la seconda parte del progetto consisteva nella realizzazione di una strategia quindi avere a fuoco quali erano gli obiettivi da raggiungere e sulla base di questi scegliere i canali più adeguati per realizzare la strategia e i contenuti più impattanti anche in questa fase la coach è stata super disponibile perché non era una cosa proprio semplicissima però ho trovato un riscontro dall'altro lato pensate che lì l'ha fatto il progetto finale per un'azienda competitor in realtà di Serenis ma così approfondito sul mercato che è stato apprezzato e ha trovato lavoro nell'azienda un'azienda che non solo apprezza i suoi talenti ma offre anche servizi di psicoterapia e supporto psicologico al proprio team insomma in questo caso vediamo che chiaramente il progetto pratico ha fatto la differenza come è andata la fase di recruiting? ma la fase di recruiting è andata mi scrive uno su LinkedIn a casa cioè succede abbastanza spesso però lui ha usato una chiave tipo guarda qua c'è già un lavoro fatto come minimo devo andarmelo a vedere poi sono andato a vedermelo e in realtà c'era della ciccia devo dire e quindi da lì abbiamo fatto un colloquio subito nel giro di dieci giorni ero in Serenis e quali sono le cose che cerchi in un candidato? io dico sempre che alla fine una roba si può imparare ma la voglia di imparare non si impara e quindi nel suo caso se l'ha fatto non so quante slide fosse ma tipo 130 uno sbattone totale ha detto quindi Lillo è uno che quando gli è una roba in mano come dire va in profondità e poi ci deve essere un minimo vivente di infarinatura tecnica anche appena uscito da un master come quello di Start2Impact che si è fatto 4 mesi di verticale ho dato quel scontato che le basi tecniche ci fossero successivamente ho incontrato Ugo Possenti un promettente UX e UI designer che è stato assunto da Tridom il primo sito che permette di piantare e far crescere alberi a distanza anche questa volta Ugo ha impressionato il recruiter di Tridom con un progetto che mostrava la sua visione per un progetto proprio riguardante Tridom in questo caso la creazione di un'app Allora io sono Ugo l'ho scelto nel 2019 il corso di UX2UI su Start2Impact in realtà ci sono più progetti pratici perché il corso prevede varie materie tra virgolette quindi si va da il percorso di scrittura al percorso di programmazione a quello poi legato più alla creazione di wireframe e di prototipi veri e propri il progetto prevedeva la creazione di un'applicazione di un servizio che ritiene utile che è utilizzato una cosa così a quel punto io ho ripensato a quando avevo regalato un albero a mio fratello per Natale e in suo punto era stato eh ma c'è un'app per poter accedere a quest'albero e io mi ero mi raccordo di no e ho detto a questo punto posso usare Tridom come caso studio per questo progetto che poi è stato il progetto finale su Start2Impact dopo qualche mese apro l'inchiato in una mattina e vedo che Tridom stava cercando una posizione di un UX2UI designer e quindi ho detto vabbè ho fatto 2 più 2 io il progetto l'avevo praticamente realizzato posso candidarmi però sì questo è stato un po' il mio approccio il suo approccio creativo e la capacità di mostrare come avrebbe migliorato l'esperienza dell'utente hanno permesso a Ugo di ottenere un colloquio e alla fine un'offerta di lavoro anche in questo caso vediamo come Ugo volesse lavorare in un settore specifico ed è riuscito a finire proprio nell'azienda che voleva abbiamo un team il team di prodotto di che cosa si occupa si occupa di progettare disegnare quelle che noi chiamiamo le esperienze utenti all'equo eravamo solo due persone cercavamo una terza persona e è diventato lui il nostro collega ha portato un design lineare che ci ha convinto e quindi è stata la combinazione diciamo del suo design e della sua personalità che poi alla fine ha fatto centro è molto importante conoscere bene le aziende i quadri dell'azienda farsi vedere veramente committati convinti di lavorare in quell'ambito poi Anthony De Medici un web developer che ha trovato la sua strada in NTT Data uno dei principali player a livello mondiale nell'ambito della consulenza dei servizi IT con un background nel mondo della musica e dello spettacolo Anthony ha dimostrato una grande voglia di imparare e ha utilizzato i progetti sviluppati durante il suo master per impressionare NTT Data riuscendo a ottenere un'offerta di lavoro prima ancora di terminare il corso ho terminato il master in front-end development il progetto pratico di che parlava si è partiti con un sito con HTML e CSS in questo caso era un sito personale quindi era una sorta di cv online per poi arrivare fino al progetto finale che consisteva proprio nel realizzare un'applicazione abbastanza complessa a front-end avevo la traccia ho realizzato il mio progetto nel momento in cui mi sentivo pronto mandavo il mio progetto al coach il quale poi entro una settimana insomma qualche giorno si prendeva il tempo per revisionarlo e io non l'ho passato due volte prima di riuscire a superarlo non è facile no non è banale dopo quanto hai trovato lavoro? allora nel momento in cui mi sono messo a cercare un mesetto ho seguito una guida di Startup Impact che ti aiutava nella creazione del tuo profilo e poi mandando cv sono riuscito ad arrivare a due offerte e poi ho optato per NTT Data insomma e adesso mi occupo di sviluppo front-end sia della parte grafica di alcune applicazioni e poi mi occupo anche di stendere la parte di codice realizzata con Figma in realtà è bello perché ho modo di vedere uno spettro un po' più ampio rispetto a quello che magari si è abituati magari in genere poi ho parlato con Fabio ed Emanuele Business Intelligent Analyst quindi nel mondo dell'analisi dati che lavorano per Mio Dottore la piattaforma digitale leader in Italia per prenotare le proprie visite mediche entrambi con un solito background universitario hanno utilizzato Startup Impact per migliorare e affinare le proprie competenze e per sostenersi a vicenda Io sono Fabio e sono un Business Analyst nel team di Business Intelligence di Mio Dottore Io sono Emanuele e anche io sono un Business Analyst all'interno del team di Business Intelligence di Mio Dottore Previsti dal percorso erano tre progetti però diciamo quello più importante è quello che riguarda la Data Visualization and Manipulation che è quello che abbiamo fatto poi sullo stesso tipo di dati sulla produzione mondiale di cibo e di alimenti andavamo poi a scovare i fattori che più incidono nell'emissione di CO2 derivata dalla produzione degli alimenti per quanto mi riguarda la cosa più impegnativa sicuramente è stata la fase di esplorazione cioè il primo approccio ai dati è sicuramente la parte più difficile poi superata quella poi in realtà rimane solo la parte più interessante che è quella della visualizzazione dell'analisi Il coach vi è stato d'aiuto? Beh sicuramente ricevere il feedback è molto utile anche se è poi il confronto con gli amici o gli altri ragazzi che incontri in piattaforma che è determinante perché è lì che poi dopo sono uscite tante idee Il primo a trovare lavoro è stato Fabio giusto? È Carola che ha trovato il tuo profilo o viceversa? io ho mandato una candidatura e sono stato contattato dall'HR da Risorse Umane e dopo una prima intervista appunto dell'HR ho fatto il colloquio con Carola Ok quindi Carola tu sapevi di questo percorso Stratto Impact University o no? No l'ho conosciuto attraverso loro perché mi sono arrivate un po' di candidature Quali sono in generale i criteri che ti stanno a cuore non fare coaching? Allora sicuramente l'approccio di volersi mettere in gioco anche il cercare su internet per capire come risolvere qualcosa di completamente sconosciuto secondo me è uno dei fattori peculiari oggi per poter crescere perché poi la tecnologia va avanti anche velocemente e quindi bisogna tenersi al passo con i tempi anche il modo in cui si sono presentati al colloquio quando è stato chiesto di presentare un progetto la differenza tra un'intervista semplicemente parlata e un'altra molto più interattiva proprio legata alla presentazione di questo caso che avevano risolto credo abbia messo in luce appunto le qualità di entrambi e invece Emanuele anche tu come sei entrato? Sostanzialmente mi ero messo alla ricerca di altre offerte di lavoro di altre opportunità e nel frattempo ero rimasto in contatto con Fabio insomma e lui mi parlava di quella che è oggi la nostra azienda e quando si era aperta la possibilità di una nuova figura entrante all'interno del team mi ha chiesto se fosse interessato e quindi poi sono stato contattato poi abbiamo Simona Loparco una social media e content manager che ora lavora per Marketing Espresso un'agenzia di social media marketing con una grande presenza su Instagram forse li conoscete tra l'altro sia lei che Anthony che Ugo non avevano la laurea ma sono comunque riusciti a trovare lavoro grazie ai progetti pratici un paio di anni fa trovai un'inserzione di Start to Impact e da lì ho iniziato il master in social media marketing ho iniziato nel febbraio 2021 e ho finito verso luglio-agosto sempre 2021 e di cosa parla questo progetto? parla di un brand di abbigliamento di seconda mano che si chiamava Duplo ed era appunto un brand che parla alle persone per sensibilizzare la tematica dell'abbigliamento di oggi e di tutto il fast fashion che ci può girare intorno ecco nel fare il progetto hai avuto difficoltà si è confrontata col coach ho avuto delle difficoltà all'inizio perché sicuramente la parte iniziale cioè quella di inquadrare il progetto è la parte più difficile perché non sapevo esattamente da dove iniziare dove mettere le mani poi sicuramente mi sono confrontata con altri studenti di Start to Impact ed ho detto ok dai Simo ce la puoi fare vai Simo è riuscito a impressionare Marco Norato amministratore di Marketing Espresso con un progetto che dimostrava la sua abilità e la sua passione per il marketing sui social il suo progetto era così bello che Marco nel guardarlo si è chiesto se lei avesse barato comunque il suo impegno e la sua dedizione sono stati notati ripagati con un ruolo in un'azienda in cui lei voleva lavorare per davvero io all'inizio pensavo che lei avesse tipo copiato o l'avesse fatto fare su Fiverr perché ho detto no è impossibile perché il progetto social media è tipo uno dei progetti non avanzati è uno dei progetti iniziali che fai e il livello era veramente tanto più alto rispetto alla media dei progetti che c'erano quindi poi là siamo entrati un po' in contatto l'abbiamo invitata a un paio di eventi che facevamo con Marketing Espresso poi due mesi dopo si è aperta una candidatura per social media manager proprio da noi lei ha fatto la candidatura e poi alla fine è stata assunta cosa è che era il progetto migliore rispetto agli altri era un progetto estremamente dettagliato non era lasciato nulla al caso anche poi il fatto che fosse proprio settato su degli standard che usiamo in azienda il progetto era settato con i colori di Marketing Espresso per far sì che io lo notassi e questa cosa ovviamente fa piacere poi Arena Barrella UX UI Designer ha trovato il suo posto in Frog una delle principali creative consultancy a livello globale come nel caso di Marketing Espresso il suo coach Daniele Del Gaudio è stato anche il recruiter che gli ha fatto il colloquio e l'ha poi assunta a differenza degli altri casi dove invece il contatto con l'azienda è venuto dopo ho scelto UX UI perché era quello più affine alla mia vecchia formazione che vengo da una formazione artistica ed è quello che più potevo andare a integrare le competenze tradizionali a quelle digitali EcoDream questo è stato il tuo progetto pratico il cliente era EcoDream e dovevamo quindi analizzare questo brand indipendente di moda sostenibile è specializzato in borse zaini e accessori EcoFriendly qua dove diciamo racconto un attimo la storia del brand per entrare nel dettaglio e anche io per avere un attimo una panoramica e poi così va a stilare l'architettura insomma la rappresentazione di tutte le pagine informazioni all'interno del sito questa è quella attuale quindi si fa come una fotografia di tutto quello che è presente all'interno del sito si vanno a spiegare le pagine prima c'è l'analisi dei competitor ossia si fa un confronto degli altri concorrenti e dopo appunto si si fa il sondaggio dove vai a stilare una serie di domande a quello che secondo te è il target di rappresentazione per andare a capire se tutte le varie idee ipotesi che sono emerse durante l'analisi fatta precedentemente hanno una evidenza dopodiché si vanno a delineare le user personas che sono la rappresentazione di un ipotetico utilizzatore del tuo prodotto o servizio dopodiché si va a delineare un user journey si chiama ossia una linea temporale in base a dove l'utente approda e si capisce qual è il percorso che si trova ad affrontare poi c'è le nuove user journey che cosa significa vado alle implementazioni che vorrei integrare che secondo me sono dei punti di opportunità vado a delinearle in un percorso per far capire che cosa potrebbero apportare le mie modifiche e si mettono a confronto appunto i punti critici e le opportunità che potrebbero emergere l'ultima fase tutto quello che hai creato lo vai a far vedere se le persone che secondo te sono in target e quindi gli utenti finali riescono a fare un'operazione che tu gli puoi comunicare quindi Daniele già da coach correggendo il progetto finale di Arianna si è reso conto di quanto fosse talentuosa e soprattutto dell'impegno che ci ha messo e questo lo ha portato a lavorare in Frog che lavora per importanti brand come è andata la parte finale cioè a un certo punto tu hai fatto un colloquio di lavoro io oltre a fare coach per Start2Impact lavoro come dipendente all'interno di un'azienda che si chiama Frog forte di questa attività che io faccio insieme a Start2Impact entro in contatto con tantissimi ragazzi e mi aveva colpito Arianna per quei motivi di cui ci dicevamo prima il primo una certa attenzione nel suo prodotto alle tematiche di accessibilità e la seconda cosa appunto questo scambio che c'è stato virtuoso in cui mi è piaciuto particolarmente come lei ha ricevuto i feedback che le ho dato non in maniera passiva ma anche proattiva che è quello che principalmente io cerco e tanti altri cercano figure che sono all'inizio del loro percorso da assumere io poi ho contattato Start2Impact ho contattato Arianna abbiamo fatto questo colloquio e alla fine si è attivato questo stagio che si è concretizzato dopo un periodo iniziale dell'assunzione di Arianna perfettone abbiamo visto la parte dei progetti pratici quindi c'è tutto c'è un buon CV una buona presentazione abbiamo dimostrato di essere competenti manca la ciliegina sulla torta e la motivazione come ho detto prima l'ideale sarebbe per una persona finire un'azienda che si ama e per l'azienda avere persone che condividono la missione dell'azienda esempio sono stato da Breaking Italy a febbraio e vi ricordate con Alessandro Massa l'ho fatto il video ho parlato tanto con lui di azienda di dipendenti perché ho parlato della sua espansione sia nel video che in privato senza registrare e lui mi ha spiegato questa cosa che tutti i suoi dipendenti sono assunti a tempo indeterminato che è una cosa rischiosissima per un imprenditore perché non puoi praticamente licenziarli quindi non puoi assumere in maniera sbagliata chiaramente mi ha detto che lui ha fatto tanta tanta fatica per assumerli e trovarli giusti perché cercava il candidato non solo che fosse bravo ma che fosse anche motivato che stesse là non per avere un lavoro e basta ma perché la sua missione era lavorare per Breaking Italy con Breaking Italy nella redazione di Breaking Italy chiaro che c'è l'esempio estremo in cui uno il sogno della sua vita è andare a lavorare in Flatmates o in Breaking Italy o in azienda N in altri casi semplicemente non è il sogno della tua vita ma comunque condividi i valori o condividi la missione o semplicemente una roba che ti appassiona tanto e quindi è importante capire che c'è della motivazione tant'è che tante aziende richiedono anche una motivation letter cioè una lettera dove tu dici i motivi per cui effettivamente vuoi lavorare in un'azienda e non mille altre identiche chiaro che non può essere sempre così cerchiamo di essere realisti alla fine la gente deve lavorare deve campare la maggior parte delle persone che sappiamo non fanno un lavoro che vi soddisfa al 100% ma dato che sto facendo un video su come massimizzare le probabilità di finire un'azienda che ci appassiona di che condividiamo le cose insomma cerchiamo di farlo ecco se sono un vegano convinto eviterei di andarmi a candidare per un'azienda di bistecche no insomma se io ho tutte queste tre cose quindi se io ho una mail chiara e leggibile un cv completo ma veloce da leggere dei progetti pratici e riesco a riconoscere una certa motivazione nel candidato ho trovato quello che è il candidato perfetto non solo ti assumo ma ti tengo il più possibile ti premio ti incentivo perché sono quelle le persone che danno valore all'azienda io parlando con tanti imprenditori alla fine una sola cosa è emersa del fare impresa la cosa più importante per avere un'azienda di successo sono le persone lo dico da imprenditore che sta scoprendo come fare l'imprenditore secondo me il candidato spesso si sottovaluta anche per aziende molto grandi la persona che cerca lavoro può essere una risorsa veramente molto importante e se le mostra di essere brava anche molto premiata perché poi questo lo vedo in quasi tutta l'azienda dove vado se una persona è brava viene premiata perché è raro trovare persone brave e motivate e con questo si conclude il mio sproloquio su come trovo la lavoro è un video che volevo fare da un sacco di tempo perché da tanto collezionavo curriculum scritti male o scritti bene anzi io stesso vorrei dedicare molto più tempo a leggere curriculum e tanto che non assumiamo devo mettermici per bene non l'ho letto è probabile che non vi abbia mai risposto rispondo solo a quelli che sono proprio super papabili oppure semplicemente ancora non ho letto le vostre mail su questo dovete perdonarmi sono una cacca imparerò a essere migliore migliorerò ringrazio Start to Impact University per avermi fornito un po' di dati in più per avermi permesso di accedere ai propri studenti e alle aziende insomma i recruiter di questi ex studenti ringrazio anche tutti i ragazzi che si sono prestati per l'intervista scrivetemi nei commenti cosa ne pensate se anche voi ragazzi volete scrivervi a Start to Impact University andate in descrizione perché come al solito con il mio codice avete uno sconto inoltre se gli iscrivete su Instagram in direct o su Facebook orientami ci penseranno loro a farvi fare un test di orientamento vuoi approfondire i master di Start to Impact University? beh in descrizione al video trovi il link per scaricare le loro brochure ci vediamo con i prossimi video ciao